Ben ritrovati a Tutto Fisco, la nostra rubrica settimanale che accoglie l'informazione sui temi fiscali. Anche quest'oggi abbiamo selezionato una serie di quesiti che tratteremo nella prima parte per poi passare nella seconda all'approfondimento della settimana che riguarderà l'aiuto alla crescita economica. Direi di entrare subito nel vivo ascoltando il primo quesito. Gestisco un'attività alberghiera e vorrei conoscere quali condizioni devo rispettare per usufruire della deroga nell'utilizzo del denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro. La norma sull'antiriciclaggio è ben nota a tutti. Nei trasferimenti, nei passaggi, nelle operazioni economiche non si può trasferire denaro contante di importo superiore ai 1.000 euro tra soggetti diversi. Il decreto legge 16 2012 all'articolo 3,1 ha introdotto una deroga, una deroga specifica per il settore turistico, ovvero le prestazioni di servizi e le cessioni di beni che avvengono nel settore turistico, quindi operatori di somministrazione di beni al minuto, attività connesse e assimilate, agenzie di viaggio e turismo, effettuate nei confronti di soggetti stranieri che non hanno la cittadinanza italiana, ovvero hanno una cittadinanza diversa da uno dei paesi della comunità europea e non hanno la residenza all'interno del nostro territorio, possono in deroga alla norma antiriciclaggio effettuare operazioni anche al di sopra dei 1.000 euro. Per fare ciò bisogna rispettare delle condizioni, come il quesito pone. Il primo è che bisogna inviare preventivamente all'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza, un'apposita comunicazione nella quale si chiede di usufruire di questa deroga alla norma generale. La seconda requisito è di carattere pratico, ovvero per effettuare operazioni al di sopra del limite bisogna identificare la controparte attraverso una fotocopia del passaporto della persona straniera. Bisognerà acquisire anche un'autocertificazione dello stesso soggetto ai sensi dell'articolo 47, nella quale bisogna riportare che non è cittadino italiano, non è cittadino di alcun paese della comunità europea e non ha la residenza nello Stato italiano. E ultimo requisito, bisognerà, l'operatore economico italiano dovrà effettuare il versamento del danaro contante presso il proprio sportello bancario dove ha sede il conto corrente aziendale entro il giorno successivo al giorno di effettuazione dell'operazione. Per cui, oltre al versamento del danaro contante, dovrà presentare all'istituto finanziario anche la fotocopia del passaporto, la fotocopia dell'autocertificazione, nonché la fattura, ovvero lo scontrino fiscale relativo alla transazione economica. Ascoltiamo il quesito successivo. Quali sono le conseguenze se vendo un appartamento a mio figlio, senza incassare il corrispettivo, anziché cederlo attraverso un atto di donazione? La compravendita di un immobile senza effettuare una movimentazione finanziaria costituisce un negozio giuridico simulato. È ovvio che tale operazione può essere posta in essere, a differenza della donazione, per evitare ogni rischio di azione revocatoria. Si pensi al fattispecie in cui il genitore vuole trasferire l'immobile al proprio figlio per far sì che questi possano accedere ai finanziamenti bancari, che sono sicuramente più vantaggiosi rispetto a una donazione che prevede il rischio di azione revocatoria. Nella fattispecie, però, a fronte delle nuove liste selettive di accertamento da parte degli uffici, bisogna segnalare che l'acquisto, anche simulato, di un immobile determina in capo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate il diritto, attraverso presunzioni semplici, di legittimare l'accertamento induttivo. Quindi se il reddito dichiarato è inferiore, ovvero il reddito accertato è superiore a un quinto del reddito dichiarato, quindi si ha l'accertamento per la presunzione semplice, anche nei contratti, nei negozi simulati, scatta l'accertamento sintetico. Il contribuente, a questo punto, se vuole effettuare l'operazione, dovrà, fin dall'inizio, sapere di incorrere in questo eventuale accertamento e dovrà precostituirsi tutti gli oneri per dimostrare la prova contraria, ovvero per dimostrare che non vi è stato un passaggio economico e quindi finanziario tra i conti correnti dell'acquirente e del venditore. Quindi dovrà rispondere all'eventuale accertamento procurando, documentando l'operazione e dimostrando che è stata una simulazione, la compravendita tra il padre, il figlio o il genero, per meri scopi finanziari e soprattutto dovrà dimostrare attraverso i conti correnti che non è avvenuta nessuna transazione finanziaria, quindi non c'è passaggio monetario e quindi non vi è reddito non dichiarato a fronte di tale movimentazione finanziaria. Quindi le operazioni di cessione simulate, che prima erano più frequenti, ad oggi con le liste selettive di accertamento per gli incrementi patrimoniali diventano un rischio maggiore. Ascoltiamo il quesito successivo. Dopo le recenti modifiche normative, come cambia il quadro delle ipoteche esattoriali in rapporto all'entità del debito pendente? Parliamo di ipoteche esattoriali, cioè le ipoteche che possono essere proposte dal ufficio dell'agente della riscossione, quindi Equitalia per intenderci, per crediti vantati nei confronti di contribuenti e decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ovvero decorsi 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. L'iscrizione può essere effettuata per un importo pari al doppio del credito vantato. L'importo, la soglia oltre la quale l'ufficio ha il potere di proporre l'iscrizione dell'ipoteca è variata negli ultimi anni. Infatti partiamo dalla direttiva di Equitalia del 5 luglio 2007 che prevedeva una soglia bassissima pari a 500 euro, quindi per i crediti vantati da Equitalia, vantati nella riscossione da parte dell'ufficio di Equitalia, si poteva proporre l'iscrizione di ipoteca già per crediti superiore ai 500 euro. Tale limite è stato innalzato fino agli 8 mila euro con il decreto legge 40 2010. Il decreto sullo sviluppo, il decreto legge 70 2011, ha inserito due grandi novità. La prima, e direi e finalmente a favore del contribuente, è la preventiva comunicazione, ovvero l'ufficio dell'agente della riscossione può proporre l'iscrizione dell'ipoteca ma deve preventivamente comunicare tale operazione al contribuente che attraverso la comunicazione dei corsi 30 giorni provvederà successivamente all'iscrizione. Tale preventiva comunicazione può essere sottoposta a impugnazione da parte del contribuente dinanzi alle commissioni tributarie. E la seconda novità ha introdotto un limite, cioè per importi fino a 20 mila euro l'iscrizione non può, anche se la soglia è di 8 mila euro, per coloro che hanno la prima casa, quindi l'iscrizione è riferita all'immobile prima casa, e quando il credito è ancora contestabile o è contestato dinanzi alle commissioni tributarie. L'ultimo decreto legge, il 16 di 2012, il decreto sulle semplificazioni, ha innalzato definitivamente la soglia a 20 mila euro. Quindi l'ufficio di Equitalia può iscrivere, proporre iscrizione ipoteca sugli immobili del contribuente, sempre previa comunicazione, per importi pari o superiori ai 20 mila euro. E la seconda novità che ha introdotto il decreto sulle semplificazioni fiscali è che qualora il contribuente aderisca a una forma di dilazione e paghi la prima rata, allora non è più facoltà, non è più nel potere dell'ufficio dell'agente riscossione, proporre iscrizioni ipotecarie. Tali norme si applicano per le cartelle, per le riscossioni successive all'entrata in figura del decreto legge 16 di 2012, per cui restano valide le ipoteiche iscritte per importi superiori agli 8 mila euro. Passiamo al quesito successivo. Le vincite derivanti dai tornei di poker effettuati in territorio estero vengono tassati in Italia? Assolutamente sì, anche i redditi derivanti, anche le vincite derivanti dai tornei di poker effettuati fuori dal territorio dello Stato rientrano nel nostro modello unico e il testo unico all'articolo 67,1 lettera D li individua come redditi diversi, quindi dovranno essere dichiarati dal nostro contribuente in Italia anche se conseguiti all'estero. E ancor più l'articolo 69,1 definisce che tali importi devono essere dichiarati per intero, quindi non vi è alcuna possibilità di dedurre spese dalla somma a dalla vincita e devono essere inseriti in dichiarazione nel periodo in cui vengono percepiti. Se il contribuente dovesse essere tassato all'estero sulle somme e sulle vincite ricevute dai tornei di poker, allora è possibile ricevere un credito di imposta, ma bisogna verificare i trattati sulla doppia imposizione, sulla doppia tassazione tra l'Italia e il Paese estero. Affrontiamo l'argomento di approfondimento della settimana, che è l'incentivo alla patrimonializzazione, alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese, ovvero l'aiuto alla crescita economica. Tale incentivo è stato introdotto con il decreto legge 201 2011, ma è di recente, metà marzo, 14 marzo 2012, l'emanazione del decreto attuativo ministeriale. Che cos'è l'aiuto alla crescita economica? È un'agevolazione finalizzata all'aumento del patrimonio netto dell'impresa, attraverso una detassazione dell'incremento patrimoniale dal reddito netto totale dichiarato. A chi è rivolto? È rivolto innanzitutto ai soggetti IRS, quindi società di capitale, ma ne usufruiscono anche le persone fisiche, le ditte individuali, gli imprenditori e le società di persona qualora abbiano optato per la contabilità ordinaria. La decorrenza è dal periodo di imposta in corso al 31-12-2011, quindi per chi ha il periodo coincidente con l'anno solare è usufruibile già nell'unico nella dichiarazione 2012. Il presupposto per poter usufruire di tale detassazione è l'incremento patrimoniale per i soggetti IRS, invece per i soggetti IRPEF si fa riferimento allo stock, cioè al valore del patrimonio netto alla fine dell'esercizio, al 31-12-2011 per intenderci. Quindi si prende in considerazione la variazione, cioè il patrimonio netto al 31-12 per gli esercizi coincidenti con l'anno solare, al 31-12-2010 al netto dell'utile conseguito e si verifica la variazione in aumento e in diminuzione è effettuata e registrata nell'esercizio sociale. Il decreto individua esattamente quali sono le variazioni in aumento e quali sono le variazioni in diminuzione che possono essere oggetto di calcolo dell'aiuto alla crescita economica, della detassazione. Senza entrare nel merito delle singole voci vi richiamo alcune note. La prima è che nelle variazioni in aumento vi sono sia i conferimenti in denaro che gli accantonamenti a riserva. Per quanto riguarda i conferimenti in denaro tali conferimenti rilevano prorata temporis, vuol dire che dalla data di pagamento fino alla fine dell'esercizio, quindi bisognerà ragguagliarli al periodo. Rilevano per il loro effettivo versamento, quindi a nulla serve la delibera, quindi l'impegno al conferimento se poi non viene eseguito. E altra deroga è che tale delibere dei conferimenti in denaro devono essere successivi al 31-12-2010. Quindi se io delibero entro il 31-12-2010 e verso nel 2011 non può essere preso in considerazione come variazione in aumento. Ovviamente non vengono considerati conferimenti in natura. Per quanto riguarda gli accantonamenti a riserva, il decreto ministeriale individua a quali voci possono confluire nelle variazioni in aumento. In sintesi possiamo dire che gli accantonamenti a riserva devono essere effettuati nei confronti di poste del bilancio indisponibili. Disponibili, quindi quelle indisponibili non vengono prese in considerazione. L'importo non è prorata temporis ma decorre dal 1 gennaio, ovvero dall'inizio dell'esercizio, indipendentemente dall'effettuazione dell'accantonamento. E' altra novità che voglio segnalare è che la riserva legale, considerata per il principio contabile una riserva indisponibile, il decreto ministeriale la considera una riserva disponibile, quindi una possibile variazione in aumento. Tra le variazioni in diminuzione abbiamo le distribuzioni di riserve ai soci, sia in denaro che in natura, rilevano all'inizio del periodo, l'acquisto di partecipazioni di società controllate o le azioni, l'acquisto di aziende o rami d'azienda. Queste sono considerate le cosiddette clausse anti-abuso, cioè evitare che la stessa norma possa usufruire sia il soggetto cedente sia il soggetto cessionario. Nei confronti delle clausse anti-abuso ovvio si può presentare un'istanza di disapplicazione nel senso dell'articolo 37 bis. Quindi una volta ottenuta l'incremento, quindi la variazione del patrimonio netto, si moltiplicherà per un fattore che nei primi tre anni di esercizio è pari al 3% e si individua quindi la quantità, l'importo detassato da che cosa? Dal reddito imponibile netto dichiarato. Quindi va nel quadro RN, non è una variazione in diminuzione, bensì è un valore che viene riportato direttamente in diminuzione del reddito da tassare e questa detassazione è valida ai fini IRES e IRPEF più addizionali, ma non ha influenza per quanto riguarda l'IRAP. Concludo dicendo che la parte eccedente, eccedente il valore da diminuire sul reddito complessivo netto dichiarato, può essere riportata negli anni successivi. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto. da Pierluca Fontana, un cordiale saluto.